gli strumenti di piegatura malco rappresentano il mini freno più semplice le giunzioni di piegatura sono formate da due metà in acciaio unite permanentemente fra di loro i fori a vista garantiscono un corretto allineamento della profondità gli strumenti di piegatura sono ideali per creare travettature piegature per inserire aste di rinforzo gusci terminali e altro combinazione di strumenti di piegatura da 9,4 millimetri 25,4 millimetri sono disponibili con larghezza da 31,46 61 centimetri